Notte al freddo per tre giovani a Campo Imperatore sono stati recuperati questa mattina al riparo tra i ruderi. Si sono riparati tra i ruderi di Sant'Egidio tre giovanissimi escursionisti che sono stati recuperati soltanto nella mattinata di oggi dopo una notte passata al freddo. Sono tre ragazzi, uno di Potenza, uno di Roma e uno di Ostia, che ieri non sono riusciti a rientrare a causa del maltempo e della funivia che ha effettuato l'ultima corsa alle ore 13. L'allarme è stato dato dai genitori stessi in serata non vedendoli rientrare. Sono intervenuti sul posto soccorso alpino CAI, Corpo Nazionale del Soccorso Alpine Speleologico, i vigili del fuoco 118 e i carabinieri. I giovani sono stati raggiunti e tratti in salvo, come dicevamo, soltanto nella mattinata, in freddoliti ma in distrete condizioni. Una vicenda che fortunatamente è finita bene, viste le temperature bassissime che si raggiungono sul Gran Sasso, soprattutto nella notte.